Non si è ancora intervenuto con decisione, ma è stata avviata solo una campagna di sensibilizzazione che però non può essere risolutiva del delicato problema. Così il consigliere comunale del PD Mario Chiavola sulla recudescenza al fenomeno randagismo a Raguse. Per Chiavola la delicata questione è stata presa sotto gamba dal sindaco Piccitto, per cui serve più decisionismo e soprattutto un sindaco che affronti di petto il problema e che non faccia finta che tutto vada bene. Dopo le dure proteste, la cenna comunale che aveva parlato, come è noto, a nome degli imprenditori della zona artigianale, continua Chiavola, qualcosa si è mosso ma è ancora troppo poco, visto che i randaggi continuano a formare branchi pericolosi non solo nell'aria in questione ma anche in altre zone periferiche della città. Per l'esponente del PD quindi il comune deve darsi da fare e scegliere quale è stata migliore da percorrere per evitare che si verifichino incidenti e purtroppo, come già si è tristemente verificato in altre zone cittadine, trascurare situazioni del genere può causare situazioni molto gravi. Noi naturalmente, conclude il consigliere Ragusano, auspichiamo che ciò non accade, ma invitiamo il sindaco ad assumersi responsabilmente l'onere di questa vicenda, diventata ormai molto pesante per tutti.